Dal punto di vista politico arrivano le reazioni alla presa di posizione del manager dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento Ficarra, il quale poche ore fa ha annunciato che dopo l'interrogazione parlamentare presentata da Firetto e la Rocca Ruvolo, si sta valutando la posizione del primario del reparto di pronto soccorso del San Giacomo d'Alto Passo, lasciando intendere che potrebbe anche esserci quanto prima una dismissione del dottore Carmelo Castiglione, da diversi anni dirigente del reparto. Sulla questione è intervenuto il gruppo consigliare di Forza Italia, composta da Carmelo Sambito, Anna Triglia ed Elio Dorsi, che ha difeso a spada tratta l'operato del dottore Castiglione. È improponibile un paragone con Gela, scrivono i consiglieri di Forza Italia, poiché l'ospedale gelese ha più reparti e una popolazione maggiore rispetto a quella di Licata. Dall'avvento del dottore Castiglione alla guida del reparto, i numeri si sono raddoppiati, passando da 16.000 a punte di 34.000 accessi. La nostra paura continuano Sambito, Triglia ed Orsi e che venga ridimensionata l'offerta ospedaliera del San Giacomo d'Alto Passo. I consiglieri credono che se i numeri a ribasso debbano valere per chiudere il punto nascite, così altrettanto quelli a rialzo debbano valere per mantenere in piena efficienza il pronto soccorso. Si era chiesta l'assunzione di un primario di chirurgia e non si crede ci si possa investire su questo e poi sostituire un dirigente medico bravo e capace credendo di risolvere i problemi. Sulla vicenda riguardando il pronto soccorso del presidio ospedaliero di Licata si registra oggi anche la presa di posizione dell'associazione Don Giuseppe Bossetti. L'associazione con una nota applaude all'operato del personale del pronto soccorso di Licata ed il dirigente del reparto che in questi anni si sono prodigati con il massimo sforzo per gestire in situazioni di oggettiva difficoltà una vasta utenza di un comprensorio che comprende Licata e altri comuni limitrofi. La vasta utenza in rapporto ad altri ospedali della zona a dire dell'associazione è numericamente superiore se si considera che i nosocomi dei comuni viciniori sono dotati di reparti non esistenti all'ospedale San Giacomo d'Alto Passo. L'utenza viene comunque gestita da parecchio tempo da personale numericamente insufficiente ma che con abnegazione si prodiga verso i cittadini. All'ospedale di Gela, sottolinea l'associazione, il personale costituito da nove unità mediche e da personale infermieristico e ausiliario numericamente superiore. L'associazione chiede infine che venga fatta una valutazione della situazione con un dialogo costruttivo.